Pochi minuti alla palla a due del quinto atto di Champions per la Sidiga e Savellino, che sfida Nimburg al pala del Mauro. Sfida pesante in ottica passaggio del turno, in un girone di che vede Besiktas e Nanter scappare grazie ai successi su Aris Salonico e Telecom Bonn. I bianco-virdi dopo Fesenko out a tempo indeterminato dovranno fare a meno anche di Bruno Fittipaldo, tutto confermato rispetto alle ansie palesate nel post-allenamento del lunedì, in cui l'Uruguagio aveva rimediato un brutto colpo al pollice della mano destra. Dopo ore di riposo in giornata, l'ex-orlandina Galatasaray si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la frattura della capsula articolare del pollice destro. Già programmata l'operazione per il play, domani sarà intervento alla mano con la supervisione del dottor Raffaele Cortina, ortopedico dell'Ital Basket presso la clinica Santa Teresa di Isola dell'Iri. Percorso simile a quanto accaduto lo scorso anno prima della gara di Champions con lo Juventus Utena per Marco Cusin. Tempi di recupero che seguono quelli del centro nella passata stagione, 40 giorni di stop, tanti e l'idea di un potenziale ritorno sul mercato per la Scandone, che già paga problemi nel reparto interni con Fesenko Out e Amadin Diaye limitato per i continui problemi alla schiena.